benvenuti sul mio nuovissimo canale sono giuseppe rcxt vi farò vedere una guida in fpv fuori al giardino di casa mia non provateci da casa alle prime prese che comprate il drone montate la telecamera vi mettete il visore e iniziate a volare perché ragazzi credetemi io ho abbastanza esperienza guido i droni da da quattro anni cinque anni quasi circa e vi posso garantire che è veramente pericoloso perché hanno comunque direte dal drone o piccolo grosso di grandi dimensioni se abbiamo quattro motori brushless con delle batterie abbastanza potenti con degli esche che reagiscono con un voltaggio esagerato tipo un 20 ampere un 25 ampere comunque sono molto potenti i rotori quando iniziano a ruotare i motori è veramente pericoloso infatti questo video che adesso vi mostrano mi sono fatto male non solo non è non ha più interagito con il telecomando e il drone ha fatto tutto da solo mai successo può essere che sarà un calo di voltaggio dalla batteria al drone qualche esche che non ha funzionato mi sono fatto male che poi vi mostrerò proprio in questo momento un'ottomobile you know you can get hurt that way daniel at the movies they have got to pay many coconuts to see what do they see donnie? uncivilized pictures that the newsreel takes of me ok adesso di sicuro faccio un flip credo proprio ora aspettate ed eccolo qua qui là certo che dal visore è proprio uno spettacolo credetemi un'altra cosa sembra che ci sei proprio dentro sei seduto proprio nel drone ok adesso ne dovrei fare un altro un altro flip credo lo so perché non volevo esagerare ovviamente c'erano i bambini le mie nipotine quindi mi sono fatto male da solo figuratevi se potevo prendere la mia nipote ecco il flip bellissimo credetemi ogni tanto mi avvicinavo alla casa giusto per provare la foxier predator che devo dire la verità dal segnale video è proprio brutto come si deve fare ecco qui faccio la curva e adesso il drone non mi dà più segni bam ho crashato da solo col drone guardate che poi nell'fpd si vedrà ah